Ciao a tutti, buongiorno. Preciso che sono sveglia dalle 5. E per cosa? Per preparare questa meraviglia, il ripieno per i colurgioni. L'ho preparato senza fare video in quanto tutta la mattina devo fare delle commissioni urgenti e non so a che ora me la sbrigo. E per preparare questo ripieno dico che ho fatto un macello, un macello di pentole, pentola, coperchio, mestoli, passaverdura, ciottole eccetera eccetera. Ecco, però quando si ha da fare così vuol dire che il buon gusto si fa avanti. Io preciso che farò un video, un video ricetta appunto del ripieno dei colurgioni. E poi a sorpresa ci sarà pure, sorpresa ve lo dico ormai, ci sarà il video a parte, farò a parte in quanto diverrebbe troppo lungo e noioso da vedere. Ecco, farò appunto la video ricetta della cocco e brena. La cocco e brena che sarebbe stessa forma dei colurgioni e poi al centro una palina di questo ripieno e poi chiuso a pizzichi e infornata come deve essere. Ecco, e io tutto ciò ve lo mostrerò al più presto. Io vi saluto, un bacio e un abbraccio a tutti, una buona giornata e ci sentiamo al prossimo video ricetta che comunque il prossimo sarà con gli asparagi, come vi ho promesso. Va bene, ciao a tutti!